Buonasera a tutti, vi do le benvenuto al Tg7 Basilicata. Apriamo questa edizione con una notizia di cronaca a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e condotte dai Carabinieri di Lago Negro in ambito nazionale sono state seguite 34 perquisizioni personali, perquisizioni di auto e di domicili. Si tratta dell'epilogo di una vasta indagine nel corso della quale sono state arrestate in flagranza di reato 103 persone, un'indagine che naturalmente va avanti da tempo e 84 sono state deferite in stato di libertà per il reato di traffico di droga da Spagna e Olanda che ha portato al sequestro di oltre un quintale di sostanze stupefacenti. Le indagini, lo ricordiamo, cominciarono in pieno lockdown quando i carabinieri sequestrarono a un giovane di Lago Negro circa un chilo di hashish e marijuana che aveva ricevuto dalla Spagna in un plico postale che gli era stato recapitato da un ignaro corriere. Per eludere i controlli, i pusher infatti acquistavano la droga tramite dedicati canali presenti sui social network, Instagram, Facebook e Telegram, concretizzando il pagamento con criptovaluta bitcoin, priva di ogni tracciabilità e ricevendo la sostanza stupefacente direttamente in casa, consegnata da ignari impiegati dei principali vettori di Corriere Espresso. Le indagini hanno fatto risalire emittenti e alle modalità di approvvigionamento della sostanza stupefacente provenienti da Spagna, in particolare da Madrid e Barcellona e dall'Olanda, svelando la ramificata organizzazione che emetteva grandi quantità di stupefacenti nell'intera penisola. Sul dark web, gli acquirenti avevano modo di visionare non solo le immagini ma anche i video nei quali veniva illustrato nel dettaglio il tipo di stupefacente in vendita e relativo prezzo, una vera e propria cache virtuale. Altrettanto meticolose, come emesso dalle investigazioni, erano le modalità di stoccaggio. Infatti, non di rado, le sostanze stupefacenti venivano occultate all'interno di confezioni di generi alimentari, come ad esempio biscotti, cereali, frutta secca, che venivano nuovamente sigillate e cosparse di essenze odorose per confondere il fiuto delle unità cilofile e tenute in fresco grazie a confezioni di ghiaccio, gel a lunga durata. Andiamo avanti con l'informazione. Con un otto, un giocatore di Melfi ha vinto 100.000 euro alle 10 e l'8. Si tratta della vincita più alta dell'ultimo concorso. Al secondo e al terzo posto vi sono le vincite di 25.000 e 20.000 euro realizzate in Toscana e in Veneto. Apriamo il nostro spazio dedicato alle notizie connesse al Covid-19 e ai contagi. Ieri sono stati processati in regione 4.056 tamponi, di cui 945 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrati anche 564 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di una persona residente a Lago Negro. Siamo quasi in chiusura, ma prima vediamo insieme il meteo per domani. Giornata improntata al tempo stabile con alternanza tra ampi spazi soleggiati e nuvolosità alta e stratiforme di passaggio. Per questa sera è tutto, vi auguro una buona serata, l'appuntamento e a domani. Grazie a tutti e arrivederci.